Il gol che ci avrebbe fatto vincere la partita non è stato così, accettiamo il verdetto del campo e andiamo avanti. Oggi non abbiamo vinto, però non abbiamo mollato. E' quella la grandezza che la squadra in un momento difficile della partita non ha mollato. Dopo che ha trovato il pareggio ha provato in tutti i modi di vincerla, abbiamo avuto le nostre occasioni. E quindi il fatto di non aver mollato è una caratteristica molto importante che ci porterà sicuramente a ritrovare i tre punti pieni, che ci porterà sicuramente a ritrovare le nostre vittorie che mancano da un po'. Però non abbiamo mollato, sì è vero non abbiamo vinto, ma non abbiamo mollato. Per caratteristiche stiamo facendo un gioco diverso. Per caratteristiche, perché il nostro gioco che parte dalle retrovie, solitamente giochiamo in conduzione per i giocatori che all'inizio giocavano, giocavano. E oggi causa infortuni. Ripeto, per caratteristiche ci stiamo adattando a un gioco un po' diverso. E quindi mi aspettavo di non vedere la squadra come al solito, perché da dietro facciamo un altro tipo di costruzione. Per quello è solamente una questione di caratteristiche. Non possiamo pensare che determinati giocatori possano fare lo stesso con caratteristiche diverse. Mi riferisco ai difensori centrali che non possono fare il gioco che fanno altri giocatori. Quindi proprio per caratteristiche mi aspettavo una partita così, nel senso che se l'azione non la costruisci bene da dietro fai fatica a giocare bene. È entrato K a posto di Carlo. Poi ho tolto un difensore, siamo passati 3-5-2 e ho inserito Mimmo con Pedro da mezzala. Abbiamo provato a fare, perdevamo. Era inevitabile che facessi una mossa un po' azzardata, nel senso che ho messo K e Tintardini sulle corsie esterne da quinti e li ho alzati molto per cercare superiorità numeriche. Questa mossa ha portato benefici perché siamo riusciti a trovare il pareggio e poi potevamo trovare il gol, che siamo andati molto vicini. Peccato, dispiace. Rimango veramente contento del fatto che la squadra non abbia mollato. L'ho sempre sottolineato che Mimmo e Federico Viero sono giocatori per noi importantissimi. Poi, sai, quando la squadra si trova un equilibrio, non solo di risultati ma anche tecnico, tattico, io come allenatore faccio fatica a cambiare. Poi, certo che vedi, tipo oggi, quando non c'era equilibrio, perché nelle due fasi non riuscivamo, ci sono stati dei cambi in maniera naturale, ma perché ho fiducia in tutti i ragazzi che abbiamo. Per quanto riguarda le punte, è lo stesso discorso. Nel momento che si trova equilibrio, si va avanti. Adesso è un momento così, in cui subiamo un tiro in porta e prendiamo gol. È successo a Torre del Greco, è successo in casa con la Vibonese. Girano questi momenti. Noi dovremmo essere bravi a far di più affinché non sia l'episodio che condizioni la partita. Per caratteristiche tecniche abbiamo dovuto un po' in queste partite modificare il gioco e quindi rimango veramente colpito dal fatto che la squadra non abbia mollato. È quella caratteristica là che ci porterà lontano. Soffre un po' in questo caso. Grazie.